Siamo sulla spiaggia di San Pietro, un gruppo di utenti della spiaggia ci ha segnalato la presenza di un fenomeno un po' increscioso che è quello dell'ambulantato. Vengono sotto le spiagge, danno fastidio e poi insistono che mettono tutto sui lettini e poi vogliono vendere. Sono un po' arrabbiata perché ambulanti ce ne sono tantissimi, ma la cosa ancora peggiore è che con la compiacenza degli stabilimenti si occupano l'ombrellone, cioè sono Boudic sulla spiaggia. E non mi sembra giusto nei confronti dei commercianti che lavorano adesso cinque mesi, pagano le tasse. Ci sono i controlli nei negozi, qui non ce ne sono, assolutamente zero. Io a volte penso come mai gli stabilimenti permettono queste cose quando poi fanno danno ai commercianti che pagano affitto e devono pagare le tasse in un'isola che comunque mi sembra assurdo questa cosa. Secondo me gli ambulanti non sono un problema, anche infatti perché noi li accogliamo con piacere, perché tutti noi abbiamo bisogno di un modo in cui continuare a vivere. Poi ci stanno persone a cui fa piacere, persone a cui non fa piacere, ma purtroppo dobbiamo tutti trovare un modo per andare avanti. E anche loro hanno campato, però possono dare fastidio a chi vende il proprio prodotto. Sicuramente si metteranno bene le culpe in salate, almeno mi danno fastidio. Questa sì, è una piaga da tantissimo tempo, ma purtroppo devono vivere pure loro, non so, non si può fare a meno. Io penso che siano ragazzi che devono sì lavorare, ma a volte sono troppo opprimenti e sono troppo fastidiosi. Io sono dalla parte dei bagnanti, quindi cerchiamo comunque di mandarli via nel momento in cui danno troppo fastidio. Lei vuole sollevare all'opinione pubblica questo problema e chiedere dei controlli. I controlli, cioè la finanza, i vigili, la capitaneria di porto, questi dovrebbero occuparsene. Zero, zero. Perché? Vorrei capire perché. Io ho fatto più segnalazioni al comando dei vigili, alla comune, hanno fatto i controlli per tutte queste situazioni. Però la squadra deve essere completa, deve venire giornalmente. È un fenomeno che va combattuto, in quanto sembra che siamo lasciati, siamo stati abbandonati appunto dalle associazioni, da chi ci amministra, perché appunto questo è denigrante ed è a sfavore di tutti i commercianti che lavorano onestamente e quindi si deve fare qualcosa.